E se Bolzano nel 2021 ospitasse nuovamente la donata nazionale degli Alpini? Mai dire mai, la proposta è stata avanzata durante l'assemblea dell'Analto Adige dal presidente Ferdinando Scaffariello, come ci spiega al microfono. Ogni volta che io mi sposto e vado fuori provincia, tutti chiedono quando rifaremo la donata a Bolzano. È stata una bella donata, tutti se la ricordano, per cui noi abbiamo proposto una data che potrebbe essere fattibile. Ovviamente non basta solo avere l'idea, serve anche il coinvolgimento del comune e della provincia per organizzare eventi in grado di richiamare migliaia e migliaia di persone. Un po' di tempo per pensarci comunque c'è. Perché le altre date e le altre anni sono tutti impegnati. Quest'anno siamo all'Aquila, il prossimo anno andremo ad Asti. Si è proposto treviso con la donata del Piave, con Conegliano e Vittorio Veneto. 2018 si è proposto Trento, ieri è stata la sua assemblea. E 2019 sono i 100 anni dell'ANA nazionale, per cui sarà una data che non potremmo toccare. Poi dal 2020 in poi si può anche riparlarne. In molti, moltissimi, si ricordano l'evento organizzato a Bolzano nel 2012. La città e l'intera provincia altoatesina hanno vissuto giornate indimenticabili, nonostante le iniziali resistenze politico-etniche. Per questo si proponiamo un'altra volta per il futuro. Non sarò io chiaramente a fare questa proposta, ma i miei successori saranno sicuramente più facili averla che non la prima volta. Per ora si tratta solamente di una proposta. Per avanzare formale richiesta si dovrà attendere ancora un paio d'anni. A chi però studia o presta semplicemente attenzione alla numerologia non sarà sfuggito un particolare. A Bolzano la donata si è svolta nel 2012 e la prossima potrebbe venire organizzata nel 2021. Segno del destino? Chissà.